Oggi, 18 novembre 2013, noi studenti del Liceo Scientifico Ludovico Pepe ci troviamo presso il nostro auditorium Luigi Greco per le votazioni dei rappresentanti al Parlamento degli Studenti. Avviato come progetto sperimentale e durato dieci anni, dal 2011, dal 28 luglio 2011, il Parlamento degli Studenti è a tutti gli effetti un'istituzione che permette a noi studenti tramite le lezioni di rappresentanti scelti di interfacciarci e comunque di avere a che fare con organi inerenti, quelli regionali.